Ciao ragazzotti, mi raccomando di iscrivervi al canale, di attivare la campanellina così da non perdervi nessun mio fantastico video e nel live, mi raccomando importantissimo, ciao 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 ragazzotti, come va? Spero tutto bene, oggi siamo sul server di funnyprison per farci qualche bel rank up, vi faccio vedere come si guadagna easy, si può volermosqueasy, comunque passiamo, facciamosi subito qualche rank up, vediamo quanto quanto guadagniamo sopra nella miniera z, insomma, vediamo un po', allora facciamo slash rank up, vediamo un po' la warp, ah comunque c'ho un tier 2 se non ci avete fatto caso, vi faccio vedere subito, dopo vi faccio vedere come farmarli, allora rank up, già siamo a rank z, andiamo a vedere rank z, warp z, vediamo un po', oh, fa schifo, fa proprio schifo, giuro non mi piace, no no, ah comunque mi sono fatti escavation ragazzotti, guardate, ok, inventario piano, vediamo quanto ci facciamo, 6 milioni, eh beh, non è poco, cioè non è poco, 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 niente, eh, allora ci facciamo un bel, poi ci facciamo un po', vediamo un po' il rank up, vediamo quanto ci manca, rank up, rank up, ok, un altro rank up, ops, warp free, ma, ma chissà come mai, oh, warp free, oh, finalmente, lo so perché ti dico finalmente ragazzotti, vediamo se trovo un lucky block, vediamo quanto, guardate la differenza tra quelli vecchi, eh, ok, eccoci qua ragazzotti, guardate qua, guardate qua questi lucky block, noi vi faccio vedere la differenza, allora, se spacchiamo questi lucky block, guardate, tre lucky crate, po' che ci ha dato, 800 milioni, e altri 500 milioni, allora, andiamo a vedere la differenza, andiamo al warp y, guardate la differenza tra questi lucky block e quell'altro, guardate questo che cosa ci danno, 10 mila, una crate, cioè fanno, cioè non sono buoni come quell'altro, ovviamente, però, naturalmente se il warp free, in qualche modo, insomma, devi guadagnare un po' di più, comunque, adesso vi faccio vedere come guadagnare più soldi, allora, facendo warp mob arena, ragazzotti, warp mob arena, prendete una spada, insomma, una buona, insomma, vedete un po' voi, se chilate questi mob, guardate qua, se chilate questi villager, guardate, o traspanare, ok, gli iron gold, ok, se voi spanate questi, cioè, chilate questi villager, guardate, un money drop, un money drop, un money drop, con queste cose, sai che cosa ci fate con questi money drop, se voi fate slash money drops, andate, cliccate qui, esattamente proprio qua, andate da questo villager, guardate un po' quei ragazzotti, con quei magma cube, lo deve fare, il witch, vi fate il villager, fa tutti, insomma, tutte queste altre cose, 5k token, presto ci arriveremo, a 400 money drops, vi dà 5k token, guardate, guarda qua, olè, Allora, andiamo al ph, vi faccio vedere quanto si guadagnano i ragazzotti con questi drop, con questi, insomma, questi spawner, allora, andiamo qua, vedete qua, guardate qua la farm che mi sono fatto, guardate qua che figa, allora, aspettiamo un attimo che spawnano questi brutte persone, oh, eccolo là, eccolo là, manca il tempo di chiamarlo, guardate qua, guardate, guardate, Allora, apriamo qua, guardate qua quanto guadagniamo, eravamo a 258 milioni, eh, 258b, guardate qua, ok, guardate qua, guardate, non so se state vedendo bene in chat i soldi che stiamo facendo, eh, stiamo diventando leggermente, ma giusto leggermente ricchi, Allora, quasi dove sono scappato i due sti pezzi di schifo, venite qui che vi ammazzo, mamma mia, vi faccio del male fisico, poi tra un po' ci andiamo a favore il boss, ragazzi, ottimo, allora, guardate qua, allora, tutte le teste mi vanno tutte qua, ho fatto questo impianto, vedete, ragazzotti, mi vanno tutte qua le teste, se fate slash sell, già mi sono con 25 test, mi sono fatto 100 milioni, mamma mia, un bordello di soldi, uh, ne ho sparato un altro, ma insomma pure questo, no, che insomma lo fa, ammazziamo, guardate qua, mamma mia, o trastiare un colmo che rompono le scatole, ok, questo è un altro conto, guardate qua i soldi, già siamo fatti 16, 12b, siamo fatti, mamma mia, siamo fatti un sacco di soldi, guardate, guardate, dunque ragazzotti, vi conviene tantissimo fare questi spawn, insomma, farmate, perché dall'ultimo video che ho fatto, insomma, dall'ultima live, è diventato più semplice, farmarli, è più semplice, quindi vi conviene tantissimo, poi qua, vabbè, devo finire, devo far plot, vabbè, questo è un altro conto, comunque andiamoci a aprire il sound, un attimo le key, facciamo un quarto, Kratos, allora, abbiamo tutte queste bellissime key, iniziamo, iniziamo dalle common, ovviamente, dalle one common, one common, guardate qua, guardate, mamma mia, no, vabbè, ok, pochi token, insomma, pochi, giusto qualcuno, ma giusto un po', 9 lucky, 9 lucky, 9 lucky, vai, apriamo pure queste, 35 token, 15 token, 15 token, 15, altri 15, al 35, ah, non gli faccio più a parlare, ok, ok, apriamoci queste otto rare, vai, apriamoci queste, mamma mia, qua, sì, si ragiona, vai, un altro uncommon, e poi arriva il bello, ragazzotti, poi arriva il bello, perché ci apriamo due key del boss, vediamo cosa troviamo, 150, no, ma dai, ma siamo seri, che delusione, che delusione, avremoci di provare quell'altra, no, che schifo, ok, c'ho questa che è migliore, vabbè, non è male, non è male, comunque, poi, la venderemo, la venderemo, ok, andiamo a vedere il boss quanto manca per spawnare, warp, vado, di slash warp, vi faccio slash warp, poi fanno warp boss, tra tre ore, vediamo se succede la magia, qualcuno lo spawna, perché, casomai, no, non lo so, eh, ops, come per magia, ragazzotti, è spawnato il boss, ma guardate un po' voi le magie, che vi fa il vostro nonno, guardate, guardate, guardate qua, allora, guardate qua, allora, ammazziamo, vediamo quanto ci mettiamo a ammazzare, c'è 997 di vita, vai, vai,動 e pensateci voi, vai, golem, oh, 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 vieni qua, brutto accesso, brutto accesso, vieni qui, ti faccio del male, vieni qua, mamma mia, vieni qua, che fa, ma vieni nel brutto accesso, vieni qua, mamma mia, ti faccio del male, vieni qua, vieni qua, brutto, mamma mia, dove cavolo hai, come ti permetti, come ti permetti tu, vieni qua, mamma mia, questo non c'è manca il tempo che era un golem, guarda, 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 ragazzotti, quasi per magia, E sparare il boss Mamma mia Guardate Guardate qua Guardate Come per magia Vieni qua Brutta persona Oh 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 Come ti permetti Come ti permetti Oh vieni qua Vieni qua Che ti faccio del male E no la lava no La lava no La lava no Vieni qua Vieni qua Brutto c'è sta maestrato Vieni qui che ti faccio proprio del male Mamma mia Vieni qua Oh 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 Come ti azzarti avvelerà il nonno Come ti azzarti Come ti azzarti Vieni qua Mamma mia ti faccio proprio del male Mamma mia Vieni qua E se vabbè Vershot easy Guardate Guardate ragazzotti ma che cosa voglio fare cosa 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 voglio fare a mani ancora che c'è provi ancora che c'è noi ma siamo seri ma siamo seri ci crediamo ciao ciao adesso ciao adesso ma cosa vuoi fare questo cosa cosa vuoi fare brutto cesso vieni qua mamma mia guardate questo cesso dove vai o mio dio e fischio e fischio piccolo polmine mamma mia ma quanto sei quanto duri 954 di vita ok ok attacca 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 pezzo di schifo vieni qua mamma mia che ti ammazzo che ti ammazzo proprio veloce mamma mia vieni qua oh 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 basta 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 mamma mia distrugge l'armatura ok vai attacchiamolo 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 ragazzo ti attacchiamolo pezzo di schifo crepaci subito se non ce ne fa il crepo io porca miseria la miseria vieni qua crepaci pure tu parari no vai attacchiamolo tutti insieme abbiamo chiamato i rinforzi ragazzotti ho chiamato i rinforzi vai crepaci crepaci vai crepaci proprio duro crepaci ok morto e non mi ha droppato un casos ma va bene così ragazzotti va benissimo così perfetto proprio perfetto niente troppo che bello va bene ragazzotti per questo video fantastico è tutto mi raccomando i pin descrizioni entrate mi raccomando entrate se no vi vengo a prendere a casa e vi faccio entrare io per le orecchie con le orecchie vi faccio entrare io mi prendo io e mi metto dentro lo schermo scherzo comunque ragazzotti per questo video è tutto vi voglio bene ragazzotti ricordatelo sempre e ciao ciao un bacione grandissimo ciao belli ciao ciao ciao